Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, è terminata una partita incredibile a Monza, è successo tutto negli ultimi minuti la partita di per sé è stata una partita piuttosto noiosa, una partita piuttosto brutta però incredibilmente, incredibilmente Lecce si salva e si salva a mio avviso meritatamente io continuo a dire praticamente tutta la stagione che il Lecce è una squadra rognosa, che non ti fa giocare bene che ha avuto tanti problemi in attacco, gli sono mancati gol, basti pensare anche al gol che si era mangiato oggi l'attaccante dopo aver salato il portiere praticamente a porta vuota l'ha messa a 5 metri a lato per soffortuna era fuorigioco perché sennò avrebbe rischiato un linciaggio però ecco, un Lecce che quest'oggi ha cercato in tutti i modi di portarsi via un punto e di giocare in contropiede, questo è stato essenzialmente il suo gioco ma alla fine, ripeto, è successo tutto negli ultimi istanti, tutto negli ultimi minuti con Gitkier che va sul dischetto e Falcone, un uomo fondamentale per il Lecce questa stagione ancora una volta è stato lui a salvare questa squadra a respingere un rigore che secondo me era stato anche ben calciato però ragazzi, io lo dico da tempo, certi rigori vanno tirati forti e centrali Colombo, non a caso, l'ha tirato centrale e l'ha messo dentro certi rigori vanno tirati centrali perché il portiere nove volte e mezzo su dieci si tuffa quindi ci sono certi rigori che devono essere tirati in una certa maniera Gitkier non l'ha fatto e Falcone ci è arrivato e questo di fatto poi ha permesso a Lecce di crearsi un'ultima occasione e sono contento che abbia fatto Colombo perché è stato Colombo a prendersi quel calcio d'angolo da cui poi è nato quell'episodio in cui Gitkier prende il pallone con la gamba con il braccio, poi l'altro braccio, quindi calcio di rigore e Colombo lo tira centrale, non l'ha colpita benissimo però quanto basta per metterla dentro che dire ragazzi, io voglio fare veramente di cuore complimenti a Lecce perché per me era fondamentale la partita di oggi ma per me il percorso che hanno fatto è stato veramente importante io vedo comunque una squadra anche stanca, provata perché giustamente poi la pressione fa tanto e Lecce oggi ad esempio di pressione ne aveva tanta e si è visto in quell'immagine del mister che si inginocchia e quasi in lacrime mentre i suoi ragazzi va sotto direi la curva è stato bello, ma com'è stato bello vedere Baschirotto in lacrime abbracciando il compagno Baschirotto che tra l'altro aveva creato lui l'occasione diciamo più grande per il Monza con quel fallo da rigore e un intervento rischioso e ripeto è stato straordinario Falcone a me oggi quello che comunque è piaciuto è stato Banda anche se poi nel secondo tempo ha perso di fatto ha sciupato due occasioni scivolando certe cose non bisognerebbe farle accadere però ecco ragazzi io penso che un tifoso del Lecce debba essere veramente orgoglioso di questa squadra e adesso penso che sia compito della società andare a migliorare in quelle parti in cui c'è bisogno di qualcosa in più ovvero su tutti l'attacco perché hanno bisogno di uno che la butti dentro a Lecce un tempo c'era un giocatore che di gol ne faceva ed era il buon Scevanton Scevanton che se giocasse oggi in Serie A per me farebbe 20-25 gol comodamente ma proprio comodamente ecco devono riuscire a trovare un giocatore che gli assicuri almeno a mio avviso una quindicina di gol ha almeno un 15 gol quindi adesso poi la palla passerà alla società però io penso veramente che i tifosi del Lecce possano essere orgogliosi e aggiungo come devono e possono essere orgogliosi i tifosi del Monza perché comunque sia oggi hanno perso una partita in cui hanno fatto di più avevano messo lì il Lecce un Lecce che si faceva mettere lì perché pensava appunto a difendere e poi cercare delle ripartenze però Monza che è ben allenato con dei giocatori a mio avviso importanti ed è una squadra che oggi viene beffata nel risultato perché ripeto comunque sia non è stata una partita divertente, emozionante una partita dove il Lecce aveva creato no è stato sopra un successo è stato praticamente tutto a tinte rossobianche io onestamente non ci speravo più l'unico momento in cui ci ho sperato è stato sul calcio d'angolo dico la verità ho detto adesso la butta rete nel mio baschi rotto di fiducia dopo aver fatto il fallo da rigore no invece ci è pensato Gitkier e mi dispiace per lui che gli sia successo questa cosa qui però sono cose che possono ahimè capitare però veramente il Monza secondo me ha fatto una buonissima partita e continua a far vedere cose buone e Palladino per me è un allenatore in gamba in gamba sono molto curioso di vedere il prossimo anno lo aspetto proprio al Varco vediamo cosa farà perché confermare quanto ho fatto buono quest'anno non sarà facile quindi dovrà sicuramente dimostrare però per tornare a Lecce ragazzi io veramente sono contentissimo io ve l'avevo detto anche nell'ultimo video per me Lecce la partita chiave ce l'ha Monza basta che strappa un punto per me in due partite ce la fa l'incognita più che altro a mio avviso era Lellas contro l'Empoli Lellas ha pareggiato dovrà andare a giocare contro il Milan per me era comunque questa la giornata la giornata importante e Lecce si è portato via tre punti pesantissimi, importantissimi in un campo dove ad esempio la Juve non ha vinto dove l'Inter non ha vinto quindi un campo comunque tosto e impegnativo quindi sono veramente veramente contento poi io l'ho sempre detto io non sono un tifoso del Lecce io parlo in base a quello che vedo le emozioni che mi dà una squadra ad esempio a me l'anno scorso aveva dato tante emozioni alla Salernitana con quella salvezza incredibile non è detto che il prossimo anno vedendo il Lecce penserò le stesse cose anzi magari il prossimo anno farò delle critiche in più penserò che magari il Lecce meriti di retrocedere oppure confermerò il fatto che il Lecce debba salvarsi cioè ogni stagione è una stagione a sé però ecco quest'anno io non posso non fare i complimenti perché da quando l'ho vista giocare ho visto una squadra veramente tosta tosta in casa ha fatto delle partite di un certo tipo ripeto può essere una fine stagione la stanchezza in grosso modo i giocatori sono sempre quelli io vedo un centrocampo un po' meno meno lucido meno fresco rispetto a qualche giornata fa anche lo stesso Hulman lo vedo un po' secondo me un po' più stanco cioè ci sta su tutte cose che ci stanno però l'importante l'importante essere riusciti ad arrivare a questo traguardo un traguardo importantissimo io personalmente non pensavo che il Lecce quest'anno si potesse salvare all'inizio stagione quando avevo fatto anche la mia prediction pensavo che il Lecce e Cremonese avessero già un po' di Serie B sono contento di essere stato mentito ma sono contento perché mi hanno smentito con i fatti mi hanno smentito con un gioco con i loro limiti con i loro problemi però mi hanno trasmesso qualcosa e ragazzi io ho aperto questo canale proprio perché voglio parlare di calcio di cose che mi trasmettono emozioni quindi è questo il bello ieri ad esempio ho fatto un video su Borussia non perché magari le partite di Serie A fossero meno interessate no è che quella partita lì mi dava emozioni e io sono qui per trasmettervi le emozioni del calcio quindi io veramente ringrazio il Lecce per le emozioni che mi ha dato quest'anno ringrazio la serenità per le emozioni dell'anno scorso e io li aspetto qua al Varco perché l'anno prossimo io voglio voglio vedere comunque dei miglioramenti soprattutto in fase offensiva e seguirò il mercato sarò curioso di vedere anche cosa come si muoverà questa squadra quindi tanto complimentoni godetevi assolutamente la salvezza bravi bravi da Falcone a Baschierotto a un TT che si è riuscito a integrare in questo ambiente senza fare diciamo la star comunque ha un curriculum importante un TT i Ulman tanti giocatori tutti i giocatori anzi hanno messo l'oro Gallo Banda Colombo tutti 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 quindi bravi ragazzi e complimenti complimenti anche al Mista Marone se li merita ripeto quella scena lì di lui inginocchiato in quel modo è stato emozionante e il calcio deve essere questo ragazzi c'è poco da stalla menare all'asino come si può dire il calcio deve essere questo passione emozione perché se no di che stiamo a parlare io vi invito a scrivere il canale di fondo del verbo forse ho finito a trasloco forse e adesso poi cerco una location per fare i video vediamo un attimo però ragazzi sono sul pezzo sono operativo unica cosa stasera il video sulla Juve non lo potrò fare perché sarò a lavoro però domani conto di farvi uscire il video su momento Juve post Siviglia tutto assieme farò una cosa tutto assieme voglio fare dei ragionamenti insieme a voi e finalmente ho tempo per poterlo fare è stato incredibile questi giorni sono stati veramente una roba folle iscrivetevi al canale diffondete il verbo e complimenti ancora ragazzi complimenti ancora sono veramente contento di tutto cuore grande Lecce se lo merita Lecce ve lo meritate voi tifosi e sono contento anche per la Serie A perché comunque è una squadra che secondo me ha dei margini importanti di miglioramento se la società va in una certa direzione si può anche togliere delle soddisfazioni forte abbraccio iscrivetevi al canale di fuori del verbo ragazzi importantissimo mi raccomando ciao